ciao a tutti allora come ogni settimana eccoci qui con il volantino lidl come sapete questa settimana non ci potrò andare devo andare a vedere quelle due cose di cui avevamo parlato solo che sapete che sono a casa in malattia ho fatto il tampone e quindi non ci posso andare adesso non so se ci capita mi amoroso solo per andare a vedere quella fascetta led da mettere nel salotto però vedremo sarà difficilissimo mandarlo allora vediamo insieme il volantino della prossima settimana quindi che va dal 16 il 22 novembre e vediamo magico datale con deluxe però questi prodotti c'erano i prodotti della deluxe c'erano anche scorsa settimana e non sono male nel senso di questi avevo provato vediamo se c'è quello che avevo provato tutte robe che non ho provato praticamente e cos'è che avevo provato di loro la marmellata scusate il già posso fare il miele poi però avevo provato anche qualche cosa di pasta adesso qui non vedo cose che ho provato io per comunque ci sono parecchi prodotti della deluxe anche proprio a livello di pasta e i ravioli li avevo provati quelli sì però quelli al nero di seppia quelli sì che erano piaciuti tanto a mio moroso ma anche qualcosa di pasta normale mi ricordo però vabbè quindi sono questi prodotti della lu deluxe anche i panettoni pandori iniziamo a vedere qualche confezione con fanetto regalo dell'equilibra che vedo che qui è un fanetto con carbone attivo quindi per pelli grasse con impurità poi abbiamo i pacchetti sempre per natale di dolci dolcetti dolciumi cioccolatini biscotti altri panettoni pandoro torrone e va bene poi frutte verdura le carni offerte del lunedì offerte del giovedì prodotti di salumeria quindi prosciutti salami eccetera altre offerte cose da bere cosa per la pulizia altri cioccolatini di ogni tipo però queste sono più robe di marca abbiamo una limited edition dei baci perugina che non l'ho mai vista penso che sia solo la confezione dorata pensavo che avesse un sapore magari particolare sono troppo buoni baci poi con dentro la frase sono proprio top e vabbè altre cose per la casa prodotti tutti quelli soliti che non vi sto a parlare poi che palle e abbiamo perché già quanto mi parte così con i vestiti dubito che cose cartopazze o kit natalizi ci siano però vediamo di arrivare in fondo abbiamo queste tutine pigiamini a tema harry potter abbiamo anche i personaggi di harry potter da regalare orologi da maschetti che per femminucce e c'è lo stesso anche per per adulti quindi per i fanatici di harry potter possono andare a prendere anche le pantofoline ci sono va bene poi addio le ci sono le ciabatte marchiate proprio lidl vabbè vorrei vedere chi le prende calzetti lidl magliette lidl assurdo poi abbiamo decorazioni natalizia abbiamo poca cosa perché vedo sotto che c'è il pollice verde e abbiamo niente nulla di che queste decorazioni così sono decorazioni in legno sempre per carità molto molto carine poi vabbè solite soliti fiori le stelle di natale la scorso video c'era quella singola piccolina invece questa volta c'è proprio la stella di natale quella classica grossa poi la colazione della festa l'italiana quindi prodotti da cucina della silvercrest che è il marchio ernesto che sono i prodotti che ripropone sempre lidl l'italiana da caffè frullatori tazzine queste molto molto carine poi cosa abbiamo un po di pentone forno a microonde friggitrice macchina per il pane tosta pane un tagliere contenitori salva freschezza contenitori salva freschezza di natale 7 di scatole per biscotti queste penso che siano sì in latta molto carina quella delle pupazze di neve poi un miscelatore orologi stampi da forno prodotti da bagno rasoi spazzolini elettrici regalare una bilancia natale non credo sia il caso poiché abbiamo un carrello mobile in plastica porto oggetti in plastica tutti in pelle da donna e da uomo vabbè e poi le super offerte del weekend direi che è bruttissimo questo volantino abbiate pazienza ma proprio niente quindi direi che neanche prossima settimana ci vado perché non c'è proprio nulla che dici o devo andare neanche a livello di di cibi particolari non non è nulla di che ma aspettavo ripeto non tanto cose natalizie perché comunque in ogni volantino sta mettendo qualcosa ma quei soliti kit a tema natale forse magari ancora presto però io vedo già che ancora che molta gente sta già facendo l'albero quindi pensavo mettessero fuori qualcosa anche di questo genere niente ditemi cosa ne pensate di questo volantino e ci vediamo presto un bacione ciao 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 ciao